mi è dispiaciuto non venire alla festa di eva ma edo è pazzo di antonio vero mamma mi ha detto che vuole aprire un ristorante con lui vuole che passi a trovarlo a sanremo mentre vado a nizza per la tua mostra ti posso dire una cosa mamma sì certo è per lei che ho lasciato gregorio non è un capriccio sai sono sicura ti piace? è bella molto bella a papà non voglio dire niente nemmeno a Gianluca loro non capirebbero qua è bellissima ma perchè non viene a nizza con me? forse così stiamo un po' insieme grazie 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 grazie